ciao ragazzi oggi siamo qua con il video che tratta ancora una volta ragazzi vi dico che oggi sto facendo anche delle partite e vi dico che non sono andate per niente male anzi sto continuando a giocare molto molto aggressivo poi regà scrivetemi voi sotto nei commenti cosa ne pensate ok si regà come state avete giustamente visto la facecam l'ho cambiata l'ho messa da rotonda rettangolare classica com'era a rotonda e perché sinceramente regà mi piace come già credo che lo sappiamo mai dopo tutti questi anni vabbè molto esagerato dopo tutto questo da quando ho aperto il canale credo che avete imparato a conoscermi e quindi sapere che a me piace cambiare spesso e quindi vorrei cambiare ho voluto cambiare anche il lavoro di contorno della della facecam tutte le cose che dovreste fare per fare se volete eventualmente una partita che ve la potete portare a casa quali armi portare sullo scatto il 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 non ve lo sto andando non ve lo ridico sinceramente non ve lo dico in in video perché ve l'ho già scritto e a me sinceramente non vi vorrei ripetere 300 volte la stessa cosa oggi regà non lo so come è possibile tutti i colpi mi stanno entrati ok eh vabbè regà per farvi capire regà no regà non se può cioè avete visto non è una cosa fattibile vabbè comunque ragazzi noi ci vediamo alla prossima e ciao